Dice questo, dice anche altre cose, perché poi comunque non nega che il momento dell'Inter sia brutto e che probabilmente nessuno se lo aspettava così. Però effettivamente arriva un'altra conferma per Simone Inzaghi dopo quella di Beppe Marotta. Andiamo a leggere allora cosa ha dichiarato oggi Zanetti, presente al Festival dello Sport di Trento. Dice, di sicuro non è stato l'inizio che ci aspettavamo, ma ora inizierà un ciclo di partite ravvicinate che potrà permetterci di dimostrare il nostro valore. La fiducia in Inzaghi c'è sempre stata, credo che quando le cose vanno male ci debba essere sempre coesione fra tutti. È importante sapere quali sono i nostri obiettivi e andare in quella direzione per raggiungerli. Quindi sì, io ci vedo una conferma, però ci vedo anche all'inizio del discorso un indirizzo abbastanza chiaro. Le prossime partite possono essere un'occasione per riscattarci, se vanno bene. E se non dovessero andare bene? Perché l'Inter, possiamo vedere anche il calendario, Ilenia, giusto per fare un quadro completo. Se voi guardate il calendario dell'Inter, le prossime partite a cui si riferisce Zanetti sono Inter-Roma, Inter-Barcellona, Sassuolo-Inter e Barcellona-Inter. Poi Salernitana e Fiorentina, cioè è un mese tosto questo per l'Inter. Soprattutto in Champions, qui ci si gioca tutto col Barcellona. Per cui a me sembra un po' una conferma con un asterisco questa. Perché asterisco? Possiamo entrare nel merito? Certo. No, ho pensato che volevo che volessi intervenire, scusami. Sì, volevo intervenire. Ah, infatti, prego. Ma io, Foschini prima mi ha detto non tirare fuori i numeri perché si è un rompibale, eccetera. Però se i numeri sono molto significativi. Cioè l'Inter, l'Inter, assegnato l'anno scorso alla settima giornata, aveva assegnato 22 gol. Sai quanti ne ha assegnato quest'anno alla settima giornata? 13, 9 in meno. Ed è a 5 punti dal vertice. Ne ha incassati anche 3 in più rispetto all'anno scorso. Questo cosa vuol dire? Che il gioco che ha prodotto, che produce l'Inter, non sta ottenendo dei risultati. Che i demeriti siano iscrivibili ai giocatori o all'allenatore, qui è tutto da discutere. Però, secondo il mio punto di vista, delle responsabilità ci sono anche da parte dell'allenatore. L'allenatore ha delle grandissime responsabilità. Zanetti non poteva parlare in maniera diversa, ma la realtà è capire cosa è uscito dagli incontri dei vertici societari con l'allenatore. E l'allenatore sa che è sotto osservazione. Dovrebbe anche un po' tirar fuori gli attributi questo allenatore. Io so di situazioni anche abbastanza melliflue, di allenamento, il legno è finisco. Per ora non ha dato dimostrazioni di scelte, di rompenti. Ha già detto che giocherà ancora, punterà ancora su Andanovic in campionato, Onana in Champions. Per far giocare Aslani è dovuto intervenire Marotta e dirgli «Oh, ma qui abbiamo comprato un centrocampista che voleva mezzo mondo e tu, noi ce l'abbiamo, non lo fai giocare». Insomma, il signore dovrebbe tirar fuori gli attributi. Però c'è anche una situazione societaria, anche in questo caso, che è molto peggiore rispetto a quella della Juventus. Perché è vero che sono unite dalla voragine debitoria, che quella dell'Inter è ancora superiore, però è vero che mentre la Juventus, bene o male, garanzie di sobbibilità le dà sempre, l'Inter con questa proprietà non le può dare. Quindi colpa da ambe le parti. Giacomo? Allora, io credo che parlare di Inter che giochi bene, no, sicuramente no. A me personalmente non piace. L'Inter comunque ha tutte le carte in regola, parlando di squadra, non voglio parlare di problematiche sotto l'aspetto economico, perché non voglio parlare di questo. se parlo esclusivamente della squadra e delle situazioni tecniche. Dal mio punto di vista c'è una situazione dove, per esempio, l'ultima partita a Udine, dal portiere a quelli della panchina, secondo me, a livello mentale, non c'erano. Perché comunque ho visto delle giocate pazzesche, tipo pallatua, punizione, bastoni, fuori dall'area di rigore nel primo tempo dell'Inter, può calciarla a lunga, la dà dietro, arriva a centroavanti dell'Udinese e lui si fa ammonire. Il gol che ha preso il 2-1, De Vrij, la palla sta andando in fallo del fondo, sta andando sul fondo, la lascia passare, arriva il giocatore dell'Udinese, insomma. Secondo me c'è tanta disattenzione. Sotto l'aspetto tecnico, io credo che ci sia la possibilità, è una delle poche squadre in questo momento della Serie A che ha i doppioni in ogni ruolo, perché altre squadre non le vedo. Perciò ti dico, la qualità è questa, deve, secondo me, l'allenatore deve dare qualcosa in più in questo momento, sotto tutti i punti di vista. Ma è grave, ma è grave, proprio per i motivi che stai dicendo tu, che sono condivisibili, per l'amore del cielo, ma proprio per questi motivi è grave il non aver ottenuto dei risultati o avere ottenuto questi risultati. Sì, secondo me, ha ottenuto dei risultati molto inferiori dal potenziale che ha. Appunto. Perché comunque, però, io non so, voglio trovare una scusante, Tizia, non so se poi può essere valido o meno. Quest'anno comunque è un campionato un po' strano. La preparazione, sì, io credo che a livello di Serie A del nostro campionato, ad oggi, come ho detto all'inizio della trasmissione, a me sono piaciuti come tipo di gioco, poi possono anche perdere due squadre, una in Milan e l'altra in Napoli. Perché anche le altre squadre hanno avuto degli altri passi. L'Udinese è una squadra che sta riprendendo bene. No, ma io parlo di quelle che, sulla carta, poi l'Udinese magari può vincere Scudetto. No, no, ho detto che vincere. No, io parlavo delle squadre che... Del gioco, gioco espresso. Sì, ma anche la Serenitana, allora, Tiziano, secondo me, sta giocando bene. Sì, però voglio dire, il gioco espresso si traduce in positivo, si traduce in risultati, e quindi anche in punti. Io sto dicendo che, stavo dicendo per concludere, che secondo me ha tutte le carte di regola per poter uscire da questa situazione, ma deve essere veloce. Perché altrimenti perdi punti. E la situazione si è grave. E soprattutto c'è più tensione, Ezio? Prima parlavamo delle problematiche della Juventus, in particolare parlavamo dell'allenatore. Mi sembra che questa sia una situazione similare. Anche di ordine economico. Scusami? Anche di ordine economico. Ecco, a riguardo di questo, la mia è una domanda, e la faccio a Giacomo, e la faccio a Massimo. Se tu, calciatore, sai di questi problemi, vedi l'imbeccata di Tiziano, mi arriva al momento giusto, cioè, tu sai che c'è qualcosa, Fabio ha parlato di problemi gravissimi, vi hai usato il superlativo, se sono sotto gli occhi di tutti. Sono sotto gli occhi di tutti. Questa cosa, quando tu vai in campo, nel tuo stato d'animo, si può ripercuotere, oppure no? Cioè, nei 90 minuti, tu pensi a giocare, all'azione, al pallone, a segnare, tutto quanto, ma il tuo stato d'animo, prima della partita, per sette giorni, qual è? No, ma posso dirti, allora questa è una cosa personale, perché per esempio, adesso tu hai chiesto a me, Massimo, che abbiamo fatto questo, possiamo avere due pareri diversi, io se parlo per me, io se la situazione, e ho avuto la società, parecchie società, purtroppo a volte che erano in difficoltà, però io personalmente, quando andavo in campo, non pensavo al fatto che la società poteva andare via, poteva avere delle problematiche economiche, ma in settimana non eri sereno? io no, parlo per me, poi dopo magari un giocatore può pensare in un altro modo, se la fai a me la domanda, io pensavo andare in campo e giocare la partita per vincere, non mi interessava, poi finita la partita, speravo che la mia società potesse risolvere la situazione, ma durante la partita non pensi a questo. il focus è quello, Massimo, tu invece? No, no, anch'io, il focus è sempre stato, anche per me, quello, io però sono d'accordo con Giacomo, quando dice che l'organico dell'Inter è un organico di altissimo livello, proprio per questo sono stupito dai risultati altalenanti, e soprattutto dalla mancanza, guarda, forse neanche tanto di gioco, ma io credo che l'Inter corra molto, molto meno e peggio rispetto agli altri anni, o comunque rispetto all'anno in cui ha vinto lo Scudetto e la prima parte dell'anno scorso. Io credo che in questo momento l'handicap, mi spiace dirlo, in questo momento, poi magari crescerà, sia proprio l'allenatore. Insomma, l'allenatore secondo me è in grandissima confusione, subisce delle pressioni, perché la panchina dell'Inter è una panchina di grandissima pressione, come lo è quella del Milan, come lo è quella della Juventus, come lo è quella di grandi club, e lui probabilmente alle pressioni reagisce in modo, anche avendo forse, Giacomo, e qui chiedo il vostro supporto, non hai vicino uno staff a mio avviso all'altezza, perché ora ti faccio una domanda, Giacomo, tu ti sei seduto in panchina e sei stato anche calciatore di Serie A ad alti livelli, ma un allenatore che sostituisce due giocatori al trentesimo del primo tempo, tra le altre cose, uno che ha 500 partite tra Serie A e Premier, che è Mkhitaryan, e partite di Champions, Europa League, eccetera, l'altro che è un nazionale italiano, li sostituisci perché sono ammoniti, insomma, io speravo almeno che in quel momento la persona che era vicina a Inzaghi gli dicessi, o avesse la forza di dirgli ma che cazzo stai facendo, stai facendo una cazzo di pazzesca, perché io non ho mai visto nel calcio moderno una doppia sostituzione al trentesimo del primo tempo, e invece ha fatto la sostituzione senza che nessuno si mettesse, io parlo del suo secondo allenatore, io sto parlando di situazioni puramente tecniche e quindi insomma, questa è stata, non è stato il motivo per cui ha perso, però hai rischiato di perdere due giocatori, Giacomo, tu sei stato giocatore e vieni sostituito al trentesimo, hai secondo me oggi c'hai il morale sottoterra, no, io sì beh su questo sono d'accordo con Massimo perché comunque al ventinovesimo che vengono sostituiti due giocatori che comunque sì sono stati ammoniti però sono giocatori che parlo per me se io fossi l'allelatore di quel momento sono importanti, io non li levo manco morto perché non è che al ventinovesimo il primo tempo perché c'è un'ammunizione e devo levare un giocatore questo io non l'avrei mai fatto non è la finale di Champions League però lui sì lui ha un po' questa abitudine perché lui dove dici c'è la finale posso giocare lui sostituisce gli ammoniti ma purtroppo Massimo secondo me sempre da esterno guardando anche l'anno scorso lui ha questo tipo di mentalità nel momento in cui il suo giocatore viene ammonito lui ha sempre paura di rimanere in dieci e fa la sostituzione che con questo non voglio dire che ha ragione bel messaggio dai alla squadra no no non è bel messaggio il messaggio no la paura sì però io ti rispondo da allenatore se tu mi ridici una cosa del genere io ti dico io non sono d'accordo ma se me lo dici a me che sono allenatore ti dico caro Fabio io lo faccio perché non voglio rimanere in dieci hai capito? la curva non se la prende con i zaghi ma identifica in Zhang il colpevole di questa situazione fino a ieri la curva non si era mai esposta completamente ieri però a un certo punto sulla pagina social della curva interista esce questa scritta Zhang vattene e poi ancora ci sono state diverse scritte in giro per Milano riportando insomma la stessa frase Zhang vattene quindi la tifoseria interista quantomeno il gruppo organizzato della tifoseria interista ce l'ha con Zhang non ce l'ha con Simone Inzaghi crede che i problemi dell'Inter nascano dalla proprietà che poi è un po' quello che dicevi anche tu prima Fabio dividevi in qualche modo le colpe certo ma nascono dalla proprietà una proprietà che non offre nessuna prospettiva questo è il problema che pensa di arrancare anno dopo anno vendendo i giocatori migliori così non si fa però Fabio scusa posso dirti non si fa una squadra così non si fa e non si gestisce la società allora finisco presa coscienza dell'impossibilità di andare avanti si vende no ma io ti sto si vende la mia domanda lascia venire la domanda non finisce mai la sto facendo a Fabio allora secondo te aveva la possibilità in casa di vendere un giocatore e prendere tanto perché non l'ha dato via Skriniar ma alla fine lo darà via no l'ha dato via perché aveva paura che se lo dava via arrivavano 20.000 tifosi incazzati sotto scusate se tu sei in difficoltà economica hai capito allora tu devi prendere coscienza nelle condizioni in cui io sono Stefan Zang non posso gestire l'Inter devo vendere eh ma la domanda è io posso vendere è una cifra anche alta poi io ti dico per quello che ho letto cioè Skriniar poteva andare via la difficoltà della vendita dell'Inter è data dai soldi cioè mi spiego meglio c'è un prestito che deve un prestito economico che deve rimborsare e dei passivi dei passivi di bilancio che deve che deve coprire quindi chi compra compra i debiti compra anche i debiti e deve Tiziano no ma la cosa che però ripeto da esterno perché io non so il perché io ti dico per quello che ho letto e quello che ho sentito dire nelle trevisioni cioè in base a quello che stava dicendo Fabio però alla fine io c'è in casa un giocatore che posso vendere non so 50 60 non l'ho venduto l'ho tenuto sì ma non puoi vendere un pezzo da 90 con il rischio di impoverire tecnicamente la squadra soprattutto il reparto arretrato perché perché è un punto di forza almeno dovrebbe essere un punto di forza basilare per la squadra per ottenere dei risultati se vendi quel giocatore è vero però lì è stata dove è mancato l'acquisto di Bremere perché tu vendevi lui per dire 60 prendevi subito Bremere a 35 Ezio poi vado da Massimo che siamo quasi saluti guarda io questo era anche una qui squiglia rispetto al problema nella sua interezza che è quello il problema più grande dell'Inter sia economico finanziario cioè non avere questa certezza e soprattutto pensare nell'eventualità di una cessione cioè parliamoci chiaro i cinesi non ci rimettono mai quando fanno un affare questo non è che se vende vende a meno di quello che lui ha già tirato fuori fino adesso o ha investito quindi quello che chiede lui vorrebbe anche guadagnarci quello che chiede è tanto e come diceva Tiziano chi si va ad accollare tutte queste cose Massimo chi si va ad accollare ci sono ci sono dei compratori ma ovviamente i compratori sì io compro però tu le determinate spese le devi coprire tu sentiamo Massimo sentiamo Massimo che veramente siamo quasi saluti Massimo hanno già detto tutto i tuoi ospiti prima o poi i nodi vengono al pettine ma secondo te di chi è maggiormente la colpa Max secondo te cosa ha detto ma secondo te di chi è maggiormente secondo me non è una colpa qui è di Allegri dai il problema secondo me è che Zang no il problema è che Zang si porta dietro questo spettro della vendita e di cercare di spostare gli stipendi dall'epoca di Conte la verità è che Conte io ve lo dico ma non perché Antonio è amico mio è amico di Giacomo io lo dico perché so cosa ha fatto lì dentro e lui faceva anche tra virgolette rappresentava quasi anche la società i giocatori si rivolgevano a lui non ai dirigenti quindi c'erano già i problemi all'epoca io lo dissi all'epoca che c'erano problemi e probabilmente Conte se ne è andato via perché aveva capito la mala parata oggi la società e i tifosi se ne sono giustamente accorti la società l'attita e io adesso non so se può avere un aspetto negativo sulla squadra però sicuramente qualche giocatore può anche risentire di questa situazione noi non lo sappiamo certo io sono convinto di questo sei d'accordo? assolutamente